E' officialmente arrivata l'estate, anche se in realtà fuori piove un sacco e fa freddo, però è officialmente arrivata l'estate Fuori infatti c'è un tempo veramente brutto e siamo a giugno e la temperatura media a metà giugno è di 24-25 gradi Che è una temperatura bassissima, già di solito 24-25 gradi le abbiamo a maggio, metà maggio, massimo fine maggio E quindi siamo a giugno e fa ancora così freddo, tra l'altro tira un vento assurdo E' per questo che mi trovate con questi tappi sulle orecchie, tanto che sono andata al mare per tre giorni di seguito Mi sono fatta il bagno con l'acqua gelida e sono uscita e c'era un vento fortissimo Quindi adesso non sento assolutamente nulla e mi fanno malissimo Quindi scusatemi se dirò delle parole assolutamente sconnesse tra di loro Farò delle frasi senza senso, ma io non mi sento parlare, quindi sto dicendo un po' a sentimento E niente, non è questo il punto del video perché non c'entra assolutamente niente Però era, per avvisarvi, magari mi sentisse parlare a caso In estate però ci sono anche cose belle perché tutti quanti hanno più tempo per dedicarsi alle proprie passioni e ai propri interessi In particolare io posso dedicarmi a registrare contenuti, editarli, che è una cosa che amo fare E infatti, come ogni estate, ho deciso anche quest'estate di mettermici e di impegnarmi Dato che appunto d'inverno non lo posso fare perché c'è scuola e pubblico sia no un video a settimana quando mi ricordo Mentre d'estate di solito mi impegno sempre di più Quindi sono qui per dirvi che appunto da oggi usciranno due video a settimana Uno, cioè dalla prossima settimana, cioè no, da questa settimana, questo video uscirà la prossima settimana Ok, da questa settimana usciranno un video il martedì, un video il venerdì E se riesco uno la domenica, qui usciranno tutti alle 5 Quindi mi raccomando, se non volete perdervi, io vi consiglio di iscrivervi al canale E attivare la campanella per non perdere i prossimi video Dato che sicuramente saranno dei vlog molto carini Dato che quest'estate ho in progetto di andare appunto a Milano Dove non sono mai stata ed è una delle mie città preferite E sono un sacco curiosa di vederla E andrò a vedere appunto il concerto di quel team a Milano Ovviamente vi porterò con me, non vedo l'ora che arrivi quel giorno Sicuramente lo vloggerò e sarà un vlog stupendo Cioè proprio me lo sento, io lo immaglio E niente, quindi fatevi per me, iscrivetevi E sicuramente i video appunto che porteranno Saranno molto più qualitosi di quelli dell'anno scorso E secondo me usciranno anche i carini, dai, si spera Ho in mente anche di cambiare un po' di cose all'interno del canale Grafica, stile di copertine Insomma ho in mente di cambiare lo stile generale del mio canale Perché è vecchio e mi ha stufato ormai da un anno Quindi ho deciso un po' di andare a cambiare il tutto E niente E un'altra cosa che vi volevo dire in questo video È che ho aperto un nuovo profilo di TikTok Cioè che in realtà non l'ho aperto per lo scopo di farci quello che vi andrò a spiegare Ma l'ho aperto perché tipo un mesetto fa Avevo registrato un video Tipo, vabbè, un video basato su un account TikTok Che era un esperimento per TikTok Che poi non è mai uscito su YouTube Perché avevo fatto un casino con quel video Le clip erano troppo corte Quindi è diventato da un 24 ore a un 48 ore Quindi era già un flop totale Però ovviamente era rimasto questo account TikTok Che aveva aperto Ed è già un mese che è lì appunto Tra i miei account a non fare niente Quindi ho deciso di farlo diventare un account spam Dove appunto pubblicherò video parlati Perché mi piace parlare E su TikTok non c'è molto spazio nei video da 15 secondi Soltanto che non vorrei intasare troppo il mio profilo principale Quindi userò appunto quest'altro profilo spam Per pubblicare anche i video parlati E niente Vi lascio qui il nome Che è G4 Yax Rattino basso 2 credo Che è un nome molto poco originale Quindi non so se lo cambierò Nel caso tanto ve lo dirò nei prossimi video Niente Nel frattempo se vi mando a seguire Questo qui è il nome E niente Oddio in questo video non l'ho fatto l'intro Perché mi sono persa a parlare Vabbè Buongiorno Top E niente Detto già Questo video termina più mi raccomando Se vi è piaciuto Iscrivetevi, lasciate un like per non perdere i prossimi video E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao